Nel cuore del sabato pomeriggio rigonfio di bagnanti sulle nostre spiagge, il cielo si è fatto plumbio e minaccioso e il mare si è ingrossato generando un'onda anomala che ha invaso metà dell'ampiezza degli arenili Agabice, Pesaro, Fano e Marotta. Un fenomeno documentato in presa diretta dai tanti video amatoriali che voi telespettatori avete inviato a Rossini TV fornendo una documentazione preziosa di un evento inusuale ma non così raro. Di fatto si è creato uno scontro fra un vortice di aria fredda e una massa d'aria calda che ha prodotto venti forti gonfiando il mare. Non ci sono stati né feriti né danni alle strutture ma una generalizzata corsa a recuperare effetti personali finiti in mare così come a tutelare i bambini più piccoli. Una prensione generale che ha creato un fuggi-fuggi dalle spiagge e una congestione delle ciclabili a fronte di un cielo minaccioso che prometteva una tempesta che poi non c'è stata. Un fenomeno tanto strano quanto rapido, il mare è rientrato in fretta nei suoi confini e la mattina seguente la spiaggia si è ripopolata come la più classica domenica di luglio.